Baris Nemtsov, il leader dell'opposizione russo, ucciso venerdì in un agguato, credeva nelle riforme per il suo paese. In queste immagini, le ultime prima della sua morte, si trovava negli studi radiofonici di Eco di Mosca, da dove aveva lanciato un appello per la manifestazione prevista per oggi contro la crisi. Invece al suo posto, oggi nella capitale russa, si svolgerà un corteo in memoria di Nemtsov, ma già in migliaia gli rendono omaggio, portando fiori sul luogo del delitto. Questo non è solo un duro colpo per l'opposizione, ma per l'intera società russa, per il paese. Se le opinioni politiche sono punite in questo modo, possiamo dire senza ombra di dubbio che questo paese non ha futuro. Secondo i primi rilevi, l'agguato sarebbe stato pianificato minuziosamente. Il leader dell'opposizione è stato colpito mentre si trovava su un ponte vicino al Cremlino. L'assassino l'avrebbe raggiunto a piedi per poi dileguarsi a bordo di un'auto dove l'attendeva un complice.